Come siamo arrivati a una risoluzione comune? Come siamo arrivati a qualche intervento cercando di metterci del buonsenso, un po' di buonismo che non fa mai male e cerchiamo di condire una risoluzione, mandiamo la giunta in Europa a raccontare che vogliamo un po' di credito, vogliamo che gli immigrati non vivano male e non muoiano in mare. Quindi non lo so, sento il collega Pizzul che dice non strumentalizziamo l'Europa, per me questo è il modo peggiore di strumentalizzare l'Europa, fare una risoluzione, farla fare agli uffici, vuota di partecipazione del Consiglio regionale e dei consiglieri, ma soprattutto la strumentalizzazione è stata fatta in questi anni, in questi anni ci è stato raccontato dai diversi partiti che l'Europa serviva per contare la lunghezza dei centimetri delle zucchine, intanto sono stati approvati il MES, il fiscal compact, ci hanno imposto il patto di stabilità, poi anche qua mi piacerebbe approfondire un attimo e capire, limitano la nostra sovranità con il 3% di deficit e poi andiamo a vedere i dati Eurostat del 2012, scopriamo che praticamente l'80% dei paesi, tra i quali ci sono la Francia, c'è il Regno Unito, la Spagna, la Grecia, praticamente l'80% dei paesi sforano e di gran lunga questo deficit PIL e casualmente noi siamo tra gli unici, tra l'altro, che in teoria ha dati Eurostat, non lo sforiamo e superiamo però il debito pubblico di più del 70%, quindi chi non lo sfora sta sotto il 70% come d'accordi di Amsterdam del 1997, mentre noi siamo il 134, 135, quindi praticamente non stiamo tutelando i nostri cittadini, mentre gli altri stati a un certo punto se ne lavano le mani delle direttive degli accordi europei, sforano i patti, però cercano almeno in talunni casi di salvare i cittadini. Ricordo anche che per quanto riguarda il patto di stabilità, ci lamentiamo e sabato ci sarà una manifestazione riguardante il patto di stabilità interno, il patto di stabilità interno, chiariamo questa cosa ai cittadini, è una scelta tutta italiana, non ce lo impone nessuno, non ce lo impone assolutamente nessuno, quindi io è settimane, se non mesi, se non anni, che sento raccontare che i comuni sono strangolati e l'Europa che ce lo chiede, e questa strumentalizzazione dell'Europa, dire che ce lo chiede, ci chiede cose e buttagli addosso colpe che non ha per giustificare le nostre incapacità, le nostre competenze. Quindi vorrei ricordare che il patto di stabilità interno e chi strangola gli enti locali oggi è stato scelto dal governo Berlusconi, poi portato avanti dal governo Prodi e poi ripreso con queste ultimazioni, questi meccanismi dell'anno precedente, ancora dal governo Berlusconi. Ho letto la questione relativa al credito delle imprese, bellissimo pensare che l'Europa ci possa dare una mano sul credito alle imprese. Ci dimentichiamo forse che la Banca Centrale Europea è una banca privata, che non abbiamo assolutamente sovranità su quello che decide, e addirittura ci siamo trovati di fronte a un meccanismo perverso che ha visto l'Italia fare da garante su soldi che venivano dati alle banche all'1% per comprare il nostro debito al 5%, una cosa che sta fuori da ogni logica. Ci faccio da garante a una persona per avere dei soldi a un tasso basso per comprarmi un mio debito, qui poi io devo corrispondere a un tasso elevato, una follia totale, nessuno si è indignato a questa cosa. E oggi però chiediamo alla Banca Centrale Europea di darci dei soldi, di aiutarci per il credito alle imprese. Mi pare che siamo arrivati un po' lunghi, un po' tardi in tal senso. Per ricordare, perché non ci facciamo mancare niente, non ce lo siamo fatti mancare col patto di stabilità interno dei governi centro-destra, che nel 2006 è stata approvata anche quella che oggi contestiamo, che è la direttiva Volkestein, quando il commissario era prodi, ricordiamocelo. Questa direttiva è una direttiva assurda nel merito della liberalizzazione, nel libero scambio di merci e servizi. Poi noi non fa nulla, l'abbiamo accettata senza nessun tipo di problema, abbiamo ancora gli ordini professionali che vanno contro questa direttiva. Quindi quando ci interessa, ce lo dice l'Europa, quando dobbiamo tutelare i consociativismi, dell'Europa non ce ne frega assolutamente nulla. Quindi assolutamente noi stiamo portando avanti delle linee che io condivido, perché comunque, ripeto, gli uffici hanno messo e ci hanno dato delle linee guida, che sono cose di buon senso, cioè come si fa ad andare contro il credito dell'impresa. Mi sembra una cosa completamente assurda. Forse andava a fare un lavoro più approfondito, un confronto serio, e non rincorrere delle cose, e poi venire qua a farci un applauso di quanto è importante l'Europa, di quanto noi li vogliamo bene e di quanto sia stati bravi a lavorare sul lavoro che non abbiamo fatto. Quindi per me è importante ribadire questo concetto, perché davvero è importante. E se noi, e concludo, non vogliamo strumentalizzare l'Europa, ma vogliamo difendere i nostri cittadini, le nostre imprese, come succede con la direttiva Bolkest, anche per mettere ai multinazionali di venire qua, depredare un territorio e una capacità operativa e professionale dei nostri cittadini, e poi andarsene, quindi senza tutela di marchi, senza tutela di nulla. Siamo limitati però quando ci mettiamo a parlare di chilometro zero, in termini che sia di appalti, che sia di filiera locale, di filiera corta. Quindi forse dovremmo intervenire in tal senso, intervenire pesantemente, e chiedere che siano rivisti gli accordi europei. E quindi la forza, non vedere l'Europa come qualcuno che ci impone delle cose quando vogliamo farle e non possiamo giustificarle e buttare addosso delle colpe, ma un posto dove noi partecipiamo, partecipiamo attivamente, perché siamo tra i massimi contributori di questa Unione, e però andiamo anche a pretendere, a battere i pugni e a chiedere che vengano rinegoziati gli accordi, quando gli accordi hanno fatto il loro tempo e non hanno più senso, e non difendono i cittadini ma difendono le grandi lobby, i mercati finanziari e le banche. Quindi quello che chiedo è che venga fatto in futuro un lavoro serio di approfondimento, in tal senso che vada nella direzione della tutela della sovranità nazionale e dei cittadini. Grazie.